Couscous con tonno sott'olio, estivo, veloce e sfizioso. Per prima cosa, versa l'acqua bollente e salata sul couscous. Copri con la pellicola e fai riposare 5 minuti. Taglia i pomodori secchi sott'olio. Taglia i filetti di tonno sott'olio. Togli la pellicola e sgrana il couscous. Aggiungi un filo d'olio e il mais. Aggiungi i pomodori secchi e il tonno. Tremi uno spicchio d'aglio in una ciotolina con prezzemolo tritato. Aggiungi abbondante olio extravergine di oliva e mescola. Versa l'emulsione di aglio, olio e prezzemolo sul couscous. Mescola il tutto e buon appetito!